No, io, senta Presidente, una cosa che io ho in testa da quando è nato questo governo, anzi da quando lei è diventato Presidente della Camera, lei è sempre convinto e determinato e lo riderebbe ogni mattina che salsa che è geneticamente diverso dalla Lega al Movimento 5 Stelle? Non c'è dubbio, noi non siamo un'alleanza di governo ma siamo in un contratto di governo che è una cosa ben diversa. La Lega si organizzerà sui territori per andare alle comunali, alle regionali, forse al Parlamento europeo ma non credo perché l'Asia andrà con liste singole, con Fratelli d'Italia, con Forza Italia, noi andremo da soli alle elezioni. Quindi dopo 90 giorni di crisi di governo, dopo averle provate e tentate tutte, il Presidente della Repubblica voleva la nascita per scongiurare nuove elezioni che il Paese non voleva, perché il Paese non voleva nuove elezioni. Questo per me era chiaro girando con tutto ciò che ricevevo, quindi la responsabilità anche mia istituzionale era di favorire la nascita di un governo politico. Si è trovato il sistema del contratto con l'unica forza che è stata al tavolo con questo sistema, il contratto che deriva dal sistema che era stato usato in Germania e su cui si era contrattato praticamente per sei mesi. Dopo 90 giorni abbiamo iniziato questo percorso e questa strada. Il nostro filo rosso, il fil rouge, è il contratto. Si deve rimanere all'interno di quell'equilibrio del contratto. Non dica filo rosso che se no poi a Salvini viene l'Orticaria, per carità. domani sono alla festa di Fratelli d'Italia, alle 11 a Salvini e a mezzogiorno io. Si, sta da tre io. Possiamo dire, gliela metto così, che qua si sente più a casa sua però. però c'è un po' di più. Grazie.